Quell'uomo ti ossessiona. Dov'è il problema? Quell'uomo ha una forza interiore che nessun altro prete ha in Polonia, incluso Vyschischi. Una forza in grado di coinvolgere i giovani e di insidiarle... Un uomo che parla di breghiera e di amore. Wojtyla non è impegnato in attività antistatali, manca di qualità organizzative e non ha capacità di comando. E poi la tradizione vuole che l'arcivescovo di Cracovia sia un nobile, e noi invece facciamo eleggere un proletario. Wojtyla è il nostro vero nemico. Il nostro nemico è Vyschischi. Per il popolino è lui il patriota, il sindacalista, il simbolo. Noi dobbiamo...